Nell'ambito della rassegna Idee di marzo si è tenuto al Centro Culturale La Fabbrica un dibattito con quattro protagoniste che hanno parlato delle loro storie di successo in vari settori, dall'imprenditoria alla cultura, dall'arte alla scienza. Siamo con Fausta De Rosa che ha creato insieme al comune di Villa Dossola questa rassegna. Qual è l'obiettivo? Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.